Tutto quanto, e poi da guaglini, fate tutto insieme, il primo tempo, eh? Bene. Questo è il ligno della Svizzera. Fa una zoomata sul giurato, è una fatta. Ma tu riesci a zoomare a finire. E' un po' brutto, non è la Svizzera. Vai, zoom, zoom. È una fatta. È un po' brutto. Ehi, è una Svizzera. e della Croazia abbiamo due minuti di parte la musica della Croazia sarà molto sono molto passionati sono fiduciosi nella battaglia con la squadra le zone picatiche aspetta come si chiama quella telecamera che va sopra al campo la spider cam la spider cam esatto quella è così però la spider cam bravi 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 scaldano allora possiamo pienare le squadre dai ragazzi noi cerchiamo di fare di preso io mi metto se no facciamo la stessa di preso doppia attuazione abbiamo anche la spider cam una macchina aspetta qua io vedo guarda che figo come fa la torta? ah no allora mi ricordo che l'incontro si fonge allo stadio a Arena Fontenova di Salvador in Brasile vizza la piega se vuole testa progetto testa testa cosa c'è? palla palla doppio start stop doppio cosa vuole? doppia telecamera oggi vediamo tutto due pronti via il cerro la torrida preso al fondo la palla passata a Croazia c'è c'è il corso il corso il corso il corso il corso al fondo con questo il corso il corso il corso Croazio ma chi è? sempre Croazio che c'è? si è messo al fuoco si è messo al fuoco ricorda che i giocatori devono essere rimessi sulla via ma poi chi si può farlo? no si è uscita qui quindi è rimessa dalla frazza Croazia Svizzera chi? Comunizione Svizzera ti arriviamo di questa qui dev' hai rimanere qui ah quindi Adesso è Svizzera Croazia Croazia Svizzera Calcio d'angolo Primo calcio d'angolo per la Croazia Ma perché si muta? I tifosi trovati in Gesù Sono impazzito Fattuto Punizione Svizzera Mi ha buttato troppo bene Ho voluto fare il fantagollo Ci ha fatto Tirare il volo Due tocchi per la Croazia Senti qua Puizione per la Croazia Uno Due 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 Primo tiro fuori Per la Croazia Dopo 5 minuti di gioco Il primo tiro Riveso tutto dal fondo Mettiamo tutto qua Sì Ma che era Paolo? Eh? Era il nome No, ho preso la rete esterna Si piacciono C'è tensione in campo Si, una partita molto sentita Croazia Svizzera Croazia Croazia Svizzera intercetta E parte incontro di attenzione 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 Sempre Svizzera Posso Sì La parte interrotta Per un giro Un giro Eccolo Angolo Ok E' buono E' sempre della Svizzera Vado No, no Questo Questo è riuscito Poco da andare Eccolo Ha preso la parola Ha preso la parola? Sì Aspetta Aspetta E' riuscito Vai 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 Si No Posizione Trash Ok Sì, attenzione, occasione per la Svizzera Sciupata dal numero 7, Fernandez Sì, 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 io non mi importo per quanto riguarda la Svizzera Ripeto Attenzione, Svizzera intercetta Tu non ho paura, riesce il pavento Sì, parata, sempre Svizzera Con lui, con lui, aspetta, però sappiamo qui, vedo qui Ok Ammazza No, no, no Ammazza Bellissimo Mentre Fernandez Ammazza Che tiro Guarda, attenzione C'è la esistenza No Dio si è la Svizzera, eh stanno un po' in ritardo Ecco adesso si Andiamo un po' Vai Ehi, un po' di Ormai i due della Svizzera sono esaltati Eh ma è ancora lunga la partita Svizzera Svizzera, Croazia Croazia Punizione Svizzera Svizzera Perché aveva tirato 13 minuti ma non mi? Io ve lo stavo andando a prenderla pala Ha tirato prima lui però Quindi tu hai la risultata Due tocchi dei pali Svizzera 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 Ho messo a Croazia Svizzera 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 Croazia Croazia Pericolo Aspetta, non puoi tirare che è in possesso senza L'ho ucciso con la notte, per la cosa esserai sopra e c'era Inizia Si però va bene, rimetti Però se non ce la fai tu vuoi tirare un'osserva Può passarla però Può passarla, però se la passi puoi rimettere Vai, ok No, l'ha ripresa L'ha ripresa, si, sempre grazie Adesso Svizzera Croazia Svizzera, attenzione, Fernandez è solo È solo, è solo È del secondo gol, sempre di Fernandez Sempre lo stesso Sì Una pietta Si Si è scatenato di Fernandez Il chiero Un minuto Ah, quello del chiero Tre, tre minuti Svizzera La partita è ancora In ballo, eh È tutto da Da strada Ah, così forte la base Croazia Croazia Svizzera Croazia È pulizione Due, no? Sì Penzioni che gli stai fuori giocano No? No, io stai fuori giocano No? Certo Tres tocchi di tensile Tres tocchi di tensile Tres tocchi di tensile Tres tocchi di tensile Ciao Ciao Vado? Vai Vai Terzo tocco Coz 이야기 Hanno caricato la Croazia », si? Ho detto Svizzera Se puoi sentarti là Endrata però Troazia Si I Vai Svizzera Svizzera Sì, è toccata. No, Croazia. Ciao Aldo. Svizzera Croazia. I tocchiate le fatti? No. Dove ho qui? No. Qui si fa fuori gioco? Sì. No, non è fuori gioco perché non tocca l'olio. Non è fuori gioco, guarda qui. Oh. Fizzera. Dove è uscito? Non è uscito qua. È Croazia Croazia Croazia. E passiamoci. Svizzera. Sì. 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 Croazia. Adesso Svizzera. Sì. Sì. Croazia. Svizzera. Sì. Può tirare? Può. Sono un pochettino totalmente ristratto. Sì. Ha rischiato. Sì. Sì. Non dico... Un minuto di recupero. Sì. forse. Una volta portata. Sono tutti di voi svizesti, eh? mamma mia si è vizzera provazio vizzera no è dentro il rigore calcio di rigore calcio di rigore calcio di rigore calcio di rigore la presa nettamente dentro attenzione i giocatori devono uscire dall'aria si per forza pronto? via ora è un primo tempo che si conclude fine primo tempo malamente per questo il primo tempo